consapevolezza.f attraverso francesca r a cura di vb domanda quale sarebbe nella mia vita una consapevolezza guida la consapevolezza è un percorso ognuno di voi trova ed ha il suo percorso il tuo percorso può essere il vivere l'apertura verso gli altri può essere la quotidianità il mettersi in discussione nella propria vita non ti posso dire troppo perché non devo influenzare la tua azione soprattutto devo destabilizzare l'idea che ti puoi fare della mia risposta riguardo a quello che tu devi fare per migliorare la mia risposta è destabilizzante perché deve permetterti di compiere i passi da sola per sentire e l'azione fatta per sentire non è mai quella facile